Tutto pronto, si apro le gabbie, partiti i cavalli della quarta corsa del pomeriggio, la Maiden su 2300 metri, vediamo subito le prime mosse da parte dei partecipanti. Action Movie parte e si trova subito a condurre nei confronti del favorito Racing Palace che si sistema proprio alle sue spalle, Ciri Biciaccolo è l'altra che ha colto una buona partenza insieme a Mezzombra. Poi in quinta posizione c'è il debuttante Bissau che precede Aspra ed ancora Nonna Franca, Brave Moon alle cui spalle galoppa Iulita Docca in coda a tutti, un distacco anche abbastanza rilevante, Lusi Letiope. I cavalli che hanno percorso la prima parte di gara ed hanno affrontato la curva di sinistra sempre con Action Movie in vantaggio che adesso ha ripreso leggermente in mano rallentando la cadenza del ritmo. La seconda posizione è per Ciri Biciaccola, al terzo posto all'interno troviamo Racing Palace che poi precede la giuba gialla di Mezzombra, quella celeste gialla invece di Bissau a precedere Nonna Franca con la giuba rossa e nera. Perde un po' contatto Aspra e quindi lascia spazio a Brave Moon Iulita Docca in coda a tutti, è abbastanza lontano, come detto c'è Lusi Letiope. Vecchio Rudere superato in questo momento con Action Movie che è sempre davanti nei confronti di Racing Palace, Ciri Biciaccola che osserva gli eventi in terza posizione, in quarta Bissau in posizione di copertura, stessa cosa per Mezzombra, Nonna Franca, Iulita Docca, Brave Moon e gli altri che sono ormai lontanissimi. Ultima curva che va affrontata in questo momento con Racing Palace che mette qualcosina davanti girando stretto e guadagnando senza spendere, con Action Movie che è subito richiesta, Ciri Biciaccola che si presenta all'esterno di questi, Bissau che va di dentro ed ancora Nonna Franca, poi Mezzombra, Iulita Docca e tutti gli altri che sono abbondantemente sostenuti. Torniamo in cima alla corsa con Racing Palace che anche in questo caso dà la prima accelerata alla competizione mettendo anche già la quarta marcia, gli altri che sono abbastanza lontani a 400 dal traguardo, ci prova Bissau, ci prova Ciri Biciaccola ma praticamente i cavalli sono tutti sparpagliati per la pista, ad eccezione di Racing Palace che ha circa 20 lunghezze di vantaggio, a 200 dal traguardo, nel tratto conclusivo è solo gestione, esercizio di stile da parte di Samuele Diana che viene ad emergere netto, limpido, nitido, senza alcun tipo di preoccupazione, secondo posto per Ciri Biciaccola e per il terzo invece il debuttante Bissau. Racing Palace, buona la seconda per il figlio di Palace Malis, tallone adesso residente in Giappone, 3 la quota fissa, conclusiva, Sam Diana in sella, il treno di Agostino Offè, i colori sono quelli di Antonio Di Carlo, 10 al primo posto, ferma praticamente nelle fasi conclusive, basse i deflettori, Racing Palace che ha superato l'esame di stanza con disinvoltura, secondo posto per il numero 5 Ciri Biciaccola e poi per il terzo numero 3 Bissau da Capanella è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.